10 minuti prima di entrare in campo, sto lì con la testa alchina, cerco il massimo della concentrazione, poi l'allenatore mi dice le ultime cose, già le so, me le ha detto 100 volte, le ho pensate mille, poi c'è il rito, ogni squadra ha il suo, un urlo forte e siamo pronti, adesso ci siamo, adesso andiamo fuori, adesso andiamo a vincere. Oggi sapremo chi siamo. E poi la dà per Marchiso col sinistro! E' la grande risposta di De Santis che mette in calcio d'angolo. 1 contro 1, Rigiovin con era di rigore, è pronto sul testo, eccolo che parte, la parada di De Santis. Pirlo, deviazione, e c'è De Santis. Campagnano la mette dentro, allontana Bonucci, non benissimo, Cavani! Cos'ha provato Cavani! Entrata decisa di Klink, entrata rosso diretto per Klink, rosso diretto per Klink. Adesso abbiamo riveduto. Un punto in transigente, brutissimo, giusto, 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 giusto. Anche se prende, leggermente la palla, ma non c'entra nulla. Se lo prende bene, perde la gara, c'è se lo prende bene. Non puoi fare un'entrata del genere, mamma mia, di fuga magari. E' fuori! Sul secondo paolo, Bonucci! Cos'è l'es! 1-0, colasso! E' da Mando, manda tutti sotto la... Cos'è l'es! 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 Grazie a tutti.